Musica Ancora un po' di genuinità, se tutto è contaminato, denominazione di origine contaminata, xxxl, vanity, denominazione di origine contaminata, non tutta la merce sul mercato è stata controllata, denominazione di origine contaminata, classificata, fuori dalla serie numerata, quando è arrivata la tua votata, quando è arrivata la tua votata? Non è esattamente come l'avevano immaginata, è arrivata la tua votata, è arrivata la tua votata, milioni di vite buttate nell'acqua salata, passa dalla dogana, sarà la gente in fila in cana, come la conca in antico, come la marijuana, finché nessuno vede niente, nessuno sa niente, finché nessuno sa niente, nessuno dice niente, nell'opinione pubblica, nel papo presidente, non tiene mai fuori il nome del vero delinquente. Il governo è sempre colpevole, ma chi è il responsabile, che ha messo la bomba? Sodoma e Gomorra, il governo è un governo ombra, ma mettono i loro uomini al potere, se non ti va bene, ti fanno saltare in aria come, borsellino e falcone, non viene mai fuori il nome, del vero delinquente, del mandante, dell'amato consenziente, della mente pensante. I imprenditori nazionalisti, illuminati, i panatici dei servizi segreti dei piatti, questi fanno saltare i disatti, e gli strofi siamo noi perché fumiamo e ci danno dei drogati. Hanno provato a cronare la mente della gente, a ipnotizzare le persone con la televisione e poi con internet, che è solo la versione artificiale della connessione naturale naturale. E' una società di plastica, l'illusione è classica, hanno preso il simbolo del sole, l'hanno usato come spastica, un'illusione come l'economia e come la religione. Ci hanno lasciato l'onere, si sono di un unico onore, la gloria e il cash, ma non ci resta questa storia da riscrivere, errata, corrige l'altra, sbagliata. C'è un momento, il cuore e il spirito animale è stata stregata dalla strada pirata, e non c'è un'illusione di origine contaminata, con tutta la merda e il mercato è stata controllata. C'è un'illusione di origine contaminata, con tutta la merda e il mercato è stata controllata. Denominazione di origine contaminata, classicizzata fuori dalla serie di metà, non ce l'hanno fatta con noi, 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 non ce l'hanno fatta con noi. E poi mai Ci hanno segnalato, ci hanno sgomberato, ci hanno disoccupato, ci hanno scollocato, ci hanno dissaguato Pestato, indagato, arrestato, processato, condannato Ma l'ho detto al signor giudice che il mio reato è la prova più lampante che il sistema non ha funzionato Perché nessuno vede niente, nessuno sa niente Non viene mai fuori il nome del vero delinquente Finché nessuno sa niente, tutto, nessuno dice niente E tutto magna, magna, lo sa anche il presidente Finché nessuno dice niente, nessuno fa niente Non viene mai fuori il nome del mandante O finché nessuno fa niente, non cambierà niente E tutto magna, magna, e tutto magna, magna, e tutto magna, magna, la politica E tutto magna, magna, e tutto magna, magna, e tutto magna, mana, la crisi Il mondo è il presidente Il presidente Il mandante Il numero di fuente Il presidente Il mondo è 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 il presidente Grazie a tutti Grazie a tutti